Contrafatto contenta, la giunta di governo approva piano rifiuti speciali Vant Create City? Fint Free World Prestimesa & Plugins. Vania Contrafatto, assessore regionale di energia e servizi di pubblica utilità della Sicilia, esprime soddisfazione per l'approvazione ingiunta oggi del piano rifiuti speciali. Contrafatto. Non inoltre dimenticato prosegue l'assessore che il piano rappresenta una condizione essenziale posta, ex ante dai regolamenti per la spesa dei fondi comunitari e i relativi investimenti infrastrutturali. Questo è il quarto piano adottato da quando contraffatto è assessore. Viene dopo l'approvazione dei piani di bacino idrografico, di quello dei rifiuti urbani e quello relativo alle bonifiche dei siti contaminati. Si legge in una nota il piano rifiuti speciali, segnato da un iter articolato e complesso, ha visto la partecipazione per la parte ambientale dell'assessorato al territorio. . Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps. .